Belli miei, siamo su Nessus oggi con il buono Xur che è giunto puntuale come sempre per regalarci la sua... Bonnezza Solito posto, tomba dello scrutatore, salite qui sopra dove c'è la nave sfarzosa di Calus Dove c'è Faccia Strana che oggi vende Quello della settimana scorsa era buono, questo già in primo acchitto vi dico Senza pietà, infliggere colpi con letale veloci... non letali scusate, velocizza il tempo di carica finché non ottieni un'uccisione In più c'è impieto ricaricare subito dopo un'uccisione aumenta i danni dell'arma per breve tempo Senza pietà che è diventato completamente off meta, non ci si fa praticamente più niente perché è diventato veramente poco dannoso Diciamo così, però è un'arma che sta bene lì nelle collezioni Non sia mai che un giorno domani Bunch si sveglia e dice Ah, fucile a fusioni, fucile a fusione Vi baffiamo Rileva nemici Cacciatore, contrassegna nemici a cui si mira e infligge più danni ai nemici con poca vita contrassegnati C'è ancora qualcuno che ogni tanto la usa in crugiolo, ci si può fare qualche build interessante Però niente di che, in PvE praticamente il danno che si infligge ai nemici con poca vita che sono contrassegnati è veramente pesce, cioè pochissimo Però vediamo un attimo le statistiche C'ha un 16 di intelletto, sì, un 16 di mobilità Con statistiche non male, però c'è il recupero a 9 Magari si mette una mod sul recupero, arrivi a 19 21, 18, 18 Quando lo si masterworka Potrebbe essere interessante, regà, però Insomma, niente di che La sicura eonica, io ancora non capisco perché questi pezzi sono ancora all'interno del gioco Però ve lo spiego un'altra volta Bella Giammo, grazie per i due mesi Pezzo per il titano I corpi a corpo forniscono le seguenti abilità agli alleati del cult eonico nelle vicinanze Quindi vuol dire che se volete usare questa esotica Anche i vostri compagni di squadra devono usare Questa esotica Quindi energia delle granate per gli stregoni Energia del corpo a corpo per i titani Energia della schifata per i cacciatori Gli altri alleati ricevono una porzione dell'energia condivisa E quindi è una cosa che va usata in team Per cercare di aumentare la rigenerazione Delle nostre abilità Il che è abbastanza meh Calcolando che poi ha anche mobilità al 20 Però ha un buon 66 con mobilità al 20 Intelletto al 19 Buono l'intelletto, la mobilità sul titano è un po' così Però insomma Sicura eonica, regà, veramente, veramente una monnezza Ali della sagra alba Siamo sullo stregone Mobilità 18 Disciplina 17 Insomma Quando l'ama dell'alba è equipaggiata Mirare a mezzare ti sospende per breve tempo In volo Migliorando la precisione in aria Riducendo il sussulto dai colpi ricevuti E fornendo resistenze e danni I colpi dell'arma ne estendono La durata Questo è un pezzo che potrebbe andare benissimo In accordo con la sottoclasse rivolcata Solare Dello stregone Però calcolando che Praticamente con la sottoclasse Si rimane comunque lo stesso in aria Appunto con i nuovi perk Questo non fa che aumentare Appunto la resistenza Quando si fa quel giochetto lì E quindi insomma Si può usare per quello ma Ben pochi La utilizzano, regà Ben pochi la utilizzano Comunque Questo è Raxur Io mi compro Il mio ingrammetto qua Vediamo se becco i calp Per il caccia Che non ce l'ho Perfetto Alla grande